Oggi si celebra in tutta Italia la 14esima giornata di raccolta del farmaco. Recandosi nelle farmacie che aderiscono all'iniziativa, si può acquistare e donare farmaci da automedicazione che verranno destinate alle persone in stato di povertà su tutto il territorio nazionale. L'iniziativa è realizzata dalla Fondazione Banco Farmaceutico Onlus, in collaborazione con Federpharma e CDO Opere Sociali. Hanno aderito in tutta Italia 3.400 farmacie, in Puglia, nelle province di Bariebat, oltre 60. La giornata di raccolta del farmaco si svolge sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica e grazie al sostegno di Asso Salute, l'Associazione Nazionale delle Industrie Farmaceutiche dell'Automedicazione e della Federazione Ordini Farmacisti Italiani, delle aziende che hanno risposto all'appello di Banco Farmaceutico con le proprie donazioni. In 13 anni in Italia, durante la giornata di raccolta del farmaco, sono stati raccolti oltre 3 milioni di farmaci, per un controvalore commerciale superiore ai 20 milioni di euro. Oggi chi entrerà in farmacia potrà acquistare un farmaco per le persone più povere. In questa maniera vogliamo essere vicini alle persone che hanno questo grande bisogno, anche perché negli ultimi anni la povertà farmaceutica, la povertà sanitaria è in costante aumento. In 10 anni è aumentata circa dal 60%, per cui il bisogno è veramente immenso. Quello che facciamo è un gesto piccolissimo rispetto alla grande richiesta. Infatti per gli enti che abbiamo convenzionato qui ad Andria, qui nella BAT, riusciamo a coprire sia no il 50% delle richieste. Quali sono i farmaci che si possono acquistare? Quali sono le spese orientativamente su cui i clienti possono eventualmente scegliere? Certo, i nostri clienti potranno acquistare farmaci da banco, acquistabili quindi senza ricetta medica e possono spendere anche davvero poco. Si parte da farmaci che costano 2,50 euro fino ad arrivare a farmaci che costano intorno ai 10 euro. Quindi possiamo andare incontro anche alle esigenze economiche di ogni cliente. A chi verranno donati questi farmaci? Questi farmaci vengono donati ad Andria nella BAT a diversi enti tipo la Caritas Diocesana, l'associazione Unitalsi, a Casa Accoglienza Santa Maria Goretti e molti altri enti convenzionati con noi. Oggi dunque anche nelle farmacie di Bari, Barletta e Andriatrani che espongono la locandina della giornata di raccolta del farmaco, i volontari del Banco Farmaceutico accolgono i cittadini che vogliono aderire a questa iniziativa e quest'anno la giornata di raccolta vede anche la collaborazione di Bari Rochtarak del territorio che supportano l'iniziativa con donazioni di farmaci e con la loro presenza come volontari nelle farmacie. È importante per far fronte innanzitutto alle esigenze tecniche di farmaci che ci sono per le realtà indigenti, delle persone indigenti e poi è importante anche perché è importante richiamare anche ciascuno alla responsabilità che ha nei confronti della società ma anche nei confronti di se stesso. Come rispondono i clienti? I clienti rispondono molto bene, anche se c'è la crisi economica non c'è crisi del cuore.